In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, l'Auditorium Tarentum presenta Santa delle Perseguite, uno spettacolo teatrale di narrazione civile. Con la regia di Alfredo Traversa, nei giorni 24, 25 e 26 novembre, l'attrice tarantina Tiziana Risolo porterà in scena la storia di stalking di Santa Scoresa, giovane donna pugliese. L'iniziativa prevede mattinè dedicati alle scuole con la testimonianza di alcune donne che hanno subito violenze e abusi. Inoltre, gli incontri saranno arricchiti dagli interventi di Amirio Salem, addetto culturale presso l'Ambasciata del Libano, e di Barbara Gambillara, consigliera di parità della provincia di Taranto. Attesissimo l'intervento anche del Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo metropolita di Taranto. Un tema, quello della violenza delle donne a me è molto caro, però non avrei mai affrontato in teatro se non avessi incontrato per caso la figura di una ragazza, di una pugliese. Questa di Santa è una storia invece incredibile, unica, proprio perché è una ragazza che viene puntata, come dice il termine stalking, per tre anni da uno sconosciuto. Lei non aveva nessuna relazione con questo, quindi non stiamo parlando di storie d'amore andate a finire male, no, stiamo parlando di una volenza pura, di una persecuzione pura, che si scaglia all'improvviso su una ragazza che muore a 23 anni. Santa delle Perseguitate è uno spettacolo teatrale che vede la regia di Alfredo Traversa e si inserisce in un contesto di tre giornate dedicate alla violenza sulle donne, molto articolate attraverso certamente spettacoli teatrali, ma anche conferenze, testimonianze e dibattiti. Nonostante se ne parli, nonostante si intervenga, anche con provvedimenti forti, è sostanzialmente un problema, un tema sempre molto forte, direi irrisolto.